Non si possono scaricare sui comuni e di conseguenza sui cittadini le inefficienze della regione. Se i livelli di differenziata in Sicilia sono mediamente ridicoli, la colpa non è certo dei cittadini, che finirebbero per pagare con un aumento delle tariffe le colpe del governo regionale, che non è riuscito a mettere in campo idonee strategie per incentivare la differenziata. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle all'ARS, componenti della Commissione Ambiente, Nuccio Di Paola, Stefania Campo, Valentina Palmeri e Giampiero Trizzino, in vista della riunione convocata per domani dall'Assessorato regionale delle energie e rifiuti con i sindaci siciliani e con i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani delle città metropolitane e dei liberi consorsi. Oggetto della riunione, affermano i deputati, il tributo speciale per il deposito in discarica, ovvero la famosa addizionale del 20% per i comuni, che non arrivano al 65% della raccolta differenziata. Questa addizionale finirebbe per scaricarsi direttamente sulle tasche di cittadini che già pagano un'enormità, specie se l'importo è commisurato alla qualità scadentissima del servizio. Prima di metterla in atto, la regione dovrebbe battere tutte le strade alternative possibili. Tra l'altro, concludono i deputati, l'aumento non servirebbe a far lievitare il servizio di raccolta, ma finirebbe solo con il penalizzare i cittadini corretti che già differenziano e pagano la Tari. È impensabile, infatti, che chi attualmente non paga la tasse, e sono tantissimi in Sicilia, pagherebbe con gli aumenti. È vero, semmai il contrario.